Disavventura a lieto fine nel pomeriggio del 25 aprile per due giovani fidanzati che con la propria auto hanno rischiato di precipitare da un'altezza di circa 9-10 metri. I due erano a bordo di una Fiat di Punto e percorrevano Piazza Marconi in direzione di via Francesco Crispi. All'improvviso il ragazzo alla guida ha perso il controllo del mezzo, finendo contro l'arrinchiera che delimita la strada con l'area sottostante della Banca d'Italia. A causa del violento impatto l'arrinchiera è stata divelta con la macchina rimasta in pilico tra il marciapiede e il vuoto. Ad evitare che l'auto finisse sotto è stata una parte della protezione dell'arrinchiera che ha resistito all'urto. Il conducente e la sua ragazza sono stati trovati dai soccorritori in stato di sciocchi ma fortunatamente lesi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra infortunistica della Polizia Municipale di Agrigento per i rilievi e capire la dinamica dell'incidente. Tecnici operai comunali si sono occupati della messa in sicurezza dell'area interessata che è stata transennata. Un episodio simile lo scorso anno quanto nello stesso punto un'auto di grossa cilindrata a causa dell'alta velocità si schiantò contro un albero davanti l'ingresso della banca.